Io come ditta non posso lavorare nel sisma perché mia mamma era mafiosa. Io da sei anni sono il RU di Poggio Rusco, Villa Pomo, Maria Cavana, Sè... ... che sono, che realizza la pratica, che realizza le ditte, e chi fa l'ordinanza dico ci sia. Te ne prendi 60-70 grazie a un mio giro. Sei contento, no? ... Grazie a tutti.